Ciao amici miei di youtube, volevo condividere questo momento con voi sono entrata ufficialmente in ferie che bello, mamma mia una liberazione già mi sento, mi devo mettere sul relax stasera perché domani devo preparare subito le valigie non so quale profumi portarmi, aiuto volevo sapere appunto da voi se avete scelto i profumi che vi porterete in vacanza io farò due tappe diverse quindi poi avrò un cambio di valigia e quindi anche un cambio di profumi immagino e ancora non ho scelti domani poiché parto subito dovrò scegliere i profumi che mi porto uno sicuramente no speriamo bene voi quali e quanti ne portate fatemi sapere perché sono curiosissima e sarà un problema preparare il beauty soprattutto più che i vestiti ma più il beauty perché mi voglio portare di tutto ma devo riuscire a stringere il beauty case ragazzi vi mando un bacio grande grande penso che i prossimi collegamenti li farò in abruzzo a questo punto perché poi parto e quindi niente questo vi auguro anche a voi una buona serata e ci vediamo presto vi mando un bacio grande grande mi raccomando aspetto i vostri commenti grazie a tutti grazie a tutti